La porta! Ciao, ho appena traslocato, ma non ho il wifi. Posso usare il vostro? La vostra è un bel di là. Ha fiutato la rete? Che attaccante! Ce la fa la vostra fibra a scaricare tutti i miei gol? Fatto. Fibra cadabra? Dai, ibra, giochiamo? Ma chi è? Cerca in rete. La vostra fibra regge impressione di Zlatan. Sky wifi non cade mai! Non dire a nessuno che c'è fibra forte come ibra. Mi ha ammonito! Fai felice tutta la famiglia con Sky wifi e navighi con la massima potenza e affidabilità. Chiamaci 02 50 50. Ibra però me lo prendo io.